sesso clero e perversione il problema del clero non è la castità ma la sessualità la sua negazione non serve che a complicare le cose a viverle in modo perverso e ossessivo crudeltà e sofferenza riguardano tutti perché ci occupiamo della sessualità del clero cattolico perché la crudeltà e la sofferenza ci riguardano in ogni caso soprattutto quando sono nascoste l'articolo che apre questa pagina apre anche uno squarcio in un tabù la trasgressione sessuale dei preti cattolici radicata in un terribile dolore l'essere costretti a scegliere fra una vocazione alla vita consacrata e il rispetto di un istinto incomprimibile e di un sentimento di un amore terreno molti pensano che il problema non esista perché diversamente per esempio dai carcerati i preti cattolici scelgono liberamente di vivere in castità è vero che esiste una libertà di scelta ma è anche vero che in un primo momento quando una vocazione è sincera ci si sente così forti da poter affrontare qualunque difficoltà è solo il tempo che dimostra come l'istinto sessuale nella maggior parte dei casi conservi una relativa autonomia dalla coscienza e riesca poi a travolgerla sul percorso spirituale e anche sincero e appassionato del prete cattolico la tagliola della castità non scatta il primo giorno e neanche il secondo in compenso la ferita che infigge dura tutta la vita e induce il più delle volte a una sessualità deviata generando atroci sensi di colpa da dove viene tutto questo questa follia questa arroganza di chi crede che una legge abbia il diritto di mutilare un istinto forse dalla convinzione che si possa separare lo spirito dalla materia il corpo dall'anima e la massa dall'energia e che quindi la scessa spirituale si fondi sull'umiliazione della carne in questo secolo la fisica delle particelle e la psicologia analitica hanno dimostrato ognuna dal suo punto di vista l'indissolubile e costante legame tra materia ed energia speriamo che prima o poi anche la chiesa cattolica ne tenga conto solo la coscienza individuale in piena solitudine ed autonomia dovrebbe poter decidere in che modo e fino a quando sia opportuno sacrificare una parte di sé in questo articolo si parla di preti in nessun caso di suore le donne si sa arrivano sempre dopo un po di pazienza da qualche anno stiamo assistendo a un timido quasi impercettibile cambiamento nella morale cattolica la sessualità da sempre considerata fonte di peccato di morbosità viene trattata con un accento più comprensivo se ne riscopre il valore come elemento di unione per le coppie si parla di perdono nei casi di tradimento si accetta velatamente perfino il piacere come veicolo importante per la riproduzione e la vita una tendenza ancora in embrione che segnala un'esigenza di aggiornamento non più rimandabile ma nessun passo significativo potrà essere fatto se prima non cade il tabù del celibato per il clero un vero problema per la chiesa che non considera la sessualità di queste persone la dottrina cattolica per quanto abbracciata con convinzione non cancella gli istinti semplicemente li trasforma la proibizione gli ingigantisce e le situazioni reali spesso la fanno esplodere in forme perverse un esempio concreto viene dalla cattolicissima spagna dove qualche anno fa un libro dedicato alla vita sessuale del clero è arrivato ai vertici delle vendite presentando dati che suonavano come un solenne schiaffo alla dottrina della cassità e una testimonianza del livello di morbosità esistente nel clero secondo pepe rodriguez giornalista e autore del best seller spagnolo la vita sessuale del clero dei 50 sacerdoti intervistati quasi tutti ricorrono alla masturbazione 95 per cento più di metà hanno relazioni sessuali un quarto tocca i minorenni un quinto pratica l'omosessualità più o meno dichiaratamente e fatto sconcertante un buon 7 per cento commette abusi sessuali contro i minori soltanto una boutad giornalistico editoriale niente affatto i dati sono confermati da un'altra indagine sondaggio su 354 preti in cui aumentano i rapporti con minorenni maschi e femmine la questione è di grande attualità poiché oggi emergono sempre più spesso nuovi casi che una volta erano tenuti debitamente nascosti la dottrina della cassità imposta dal concilio di nicea del 325 dopo cristo produce solo disastri ed è scarsamente applicata e le conseguenze pratiche per il cattolicesimo sono devastanti l'ipocresia e la clandestinità sono i fattori scatenanti di un erus vissuto in modo deviato la vera anomalia si genera nell'agginamento della proibizione nei metodi per raggiungere la soddisfazione più che nel lato in sé siamo di fronte a una sessualità altra che si è scavata una via sotterranea e morbosa grave disordine morale la masturbazione nasce dalla solitudine e come tale è un bisogno naturale comprensibile e non c'è un dogma che dichiara l'autoerotismo peccato mortale lo affermò il parroco di bissaquino ignazio pizzitolla in una lettera ai propri parrocchiani la coraggiosa dichiarazione smentita dal settimo comandamento non commette reati impuri e non basta quindi a far cadere il divieto per il clero che considera la masturbazione come grave disordine morale ed è quindi tenuto anche su questo punto alla cassità esiste però una via d'uscita per la dottrina cattolica non c'è peccato se un prete a un orgasmo involontario come nel caso della polluzione notturna questa possibilità fa pensare che molti sacerdoti si masturbino facendo finta che accada involontariamente il dondolamento delle gambe uno strofinamento una posizione particolare dei genitali possono favorire la liberatoria eiaculazione anche questo è comprensibile ma a contatto con la realtà quotidiana questa possibilità viene distorta nel confessionale ad esempio i racconti dei fedeli sugli atti impuri costituiscono un potente stimolo alla fantasia il linguaggio parlato ricerca la situazione l'eccitazione cresce anche a causa della repressione a cui il prete è sottoposto e della sua esigenza di indagare così scatta la masturbazione molto più frequente di quanto non si pensi è più o meno involontaria sul confessionale esiste tutta una rubrica molto graffiante posti in luoghi appartati in genere bui costituiscono per la sessualità del prete ciò che era il teatro nella mentalità del libertino lì avviene la selezione cominciando cominciano gli adescamenti e le confidenze personali che consentono al confessore di prepararsi il terreno per un possibile rapporto il papa è dovuto intervenire varie volte per evitare l'uso di confessionali aperti senza barriere fisiche tra il confessore e il pecatore imponendo l'obbligo tassativo se si trattava di una donna in un contesto di questo tipo ci sembra tutto sommato più normale la masturbazione volontaria e solitaria o il comportamento di quel francescano di arezzo a cui furono sequestrate 70 cassette hard nascoste nella canonica l'ipocrisia il far finta di niente sono fattori indispensabili alla sessualità del clero e forse sono fonte di un eccitazione a volte socialmente pericolosa l'eclisse della normalità non esiste alternativa alla sessuofobia della gerarchia ecclesiastica neanche l'amore vissuto in modo appassionato e autentico costituisce un attenuante alla concupiscenza della carne situazioni di tradimento del celibato e di abbandono della propria missione religiosa per una donna come recentemente come recentemente avvenuto per il vescovo di arglil roderich witt abbandonato e abbondano abbondano e colpiscono tutto il clero dal vescovo al semplice prete un altro caso eclatante si è avuto nella diocesi di basilea circa un milione di fedeli nella svizzera cattolica il vescovo hans jorg voghe il 44 anni con una carriera ecclesiastica molto promettente abbandonato naca e vescovado per una donna di 42 anni da cui ha avuto un figlio le sue dichiarazioni sono significative in lei aveva trovato sostegno per rimediare alle difficoltà affettive sempre più intollerabili nella sua missione di vescovo inutilmente molti cattolici hanno protestato chiedendo che il prelato rimanesse al suo posto certo siamo ben lontani da altri casi scandalosi come quello del vescovo lamon k6 che in irlanda conduceva una vita spregiudicata auto sportive donne e di conseguenza anche figli ovviamente nascosti al pubblico dominio davanti ai casi di paternità la chiesa fa come gli struzzi e tenta di non vedere magari offrendo un riservato sostegno alle donne ingravidate l'emorragia di sacerdoti che non rinunciano ad amare una donna insieme a cristo e continua secondo l'associazione i preti sposati sono più di 100.000 nel mondo e circa 80.000 nella sola italia dove la popolazione religiosa monta circa 55.000 persone la chiesa smentisce questi dati ma non nasconde che l'assist l'astinenza sessuale è causa di una grave crisi nel magistero ecclesiastico è una piaga che sanguina afferma il cardinale pio langhi responsabile per l'educazione cattolica in vaticano ma sono cento le colonne che sostengono le braccia del bernini in piazza san pietro la caduta di qualche frammento fa certo un gran rumore ma non turba la testimonianza eroica degli altri sacerdoti colonne della chiesa francamente vengono molti dubbi su questo eroismo se si esaminano alcuni studi sull'argomento e il cardinale ignora che la sua metafora letta in chiave sessuale è sostenuta da 100 simboli fallici la castità dei prelati è vissuta più come castrazione che come dedizione a cristo la virtù del celibato ecclesiastico molto raramente autentica vocazione nella stragrande maggioranza dei casi e repressione crudele da cui molti preti si difendono con una concezione perversa della sessualità la pedofilia per affrontare gli ostacoli che incontrano nella soddisfazione sessuale i preti hanno due mezzi l'autorità e la conosce e le conoscenze che derivano dal loro ruolo spirituale e la possibilità di dirigere le loro attenzioni verso soggetti deboli gli stati uniti sono l'unico paese dove la realtà degli abusi sessuali dei sacerdoti sui minori è stata ampiamente svelata il risultato è incredibile su 186 diocesi nordamericane sono 100 più della metà quelle che hanno subito denunce per violenze sessuali il dato è del 90 papa voetile è dovuto intervenire personalmente con una lettera pastorale 11 6 93 per arginare il fenomeno un riscontro immediato e rintracciabile nelle condanne per abuso sessuale sui minori di moltissimi curati costato in dieci anni più di mezzo milione di dollari in indennizi alle vittime e i processi non sono ancora finiti non sorprende che la gerarchia cattolica in gran bretagna secondo fonti non ufficiali abbia preferito una copertura assicurativa contro gli abusi sessuali del clero stipulato con i lois di londra gli interventi della gerarchia ecclesiastica fino a qualche anno fa si limitavano allo spostamento dei sacerdoti implicati da una diocesi all'altra favorendo in questo modo il ripetersi di pratiche delituose alcuni casi sono veramente ignobili come quello di james porter che ha sodomizzato 46 minori o di gilbert gout che ha abusato di 36 giovani monaci nei seminari dove si preparano le nuove leve i prelati più anziani cercano di mettere in guardia dalle insidie della pelle liscia di bambini e adolescenti simili a quella delle donne ma in virtù del ruolo educativo che spesso dovranno svolgere la possibilità di scivolare verso rapporti erotici rimane comunque alta le raccomandazioni sono poca cosa davanti alla potenza dell'istinto la chiesa in alcuni casi affronta il problema cercando di coprire i fatti ciò avviene soprattutto nei paesi dove può vantare una certa influenza fa scuola il caso del sacerdote brendan smith in irlanda il giudice cattolico conservatore harry wellham si oppose per sette mesi alla firma della sua estradizione richiesta dalla giustizia dell'irlanda del nord per un reato di pedofilia scandali a ripetizione hanno colpito anche le gerarchie cattoliche in austria il cardinale hans hermann george o groer arcivescovo di viena è stato accusato di aver molestato sessualmente alcuni giovani seminaristi ed è stato costretto a dimettersi lasciando il posto al vescovo christopher born ma solo dopo qualche mese un'associazione gay accusava il nuovo prelato insieme a tre vescovi altri sacerdoti di essere omosessuale la questione omosessuale solo nel 1990 negli stati uniti si registravano più di 30 casi di morte per haitz nel clero e non si trattava di martiri dell'assistenza ma di sacerdoti omosessuali già nel 1986 papa voitila il cardinale ratzinger avevano emanato un documento che condannava in modo tassativo l'omosessualità e qualsiasi minima inclinazione verso tali rapporti una censura che non possiamo contestare dal punto di vista teologico ma che appare profondamente razionale e lessiva dei diritti di una minoranza è possibile affermare che l'omosessualità minaccia la vita e il benessere di un gran numero di persone che impedisce la realizzazione e la felicità perché contraria alla sapienza creatrice divina quando è risaputo che un elevato numero di sacerdoti la pratica varie ricerche sociologiche mediche segnalano dentro il clero cattolico una percentuale di omosessuali che varia dal 30 al 50 per cento secondo lo psicologo teologo hubert minare si può ritenere che almeno un terzo dei sacerdoti cattolici abbia rapporti con uomini se rapportiamo questi dati con la globalità della popolazione omosessuale la percentuale riguardante il clero è circa tre volte superiore a quella del resto della società a norme rigidissime di condanna si contrappone un mondo interno di tolleranza nascosta e di reciproca ricerca alla scomunica ai agli anatemi rispondono episodi di sodomia nei seminari e nei collegi relazioni fra vescovi e monaci tra insegnanti e alunni due anni fa in un paese dell'interland milanese un cappellano milanese ospitava nei suoi locali orge di 20 o 30 ragazzi con la complicità di alcuni ufficiali il vescovo lo ha sospeso ma si tratta di un caso assolutamente particolare non più nascondibile la punta di un iceberg nato dal gelo della repressione sessuale e dalla solitudine che non si scioglierà mai con i dogmi Giovanni Mapelli ex professore di religione sospeso pretestualmente dall'insegnamento per aver dichiarato la sua omosessualità non nasconde il suo astio contro questo modo di pensare questo papa ha fatto agli omosessuali più male dell'AIDS la malattia li stronca fisicamente mentre lui li ha stroncati moralmente all'inizio della scorsa estate Giovanni Paolo II in una lettera ha chiesto scusa alle donne dovrebbe fare la stessa cosa con gli omosessuali perché parla dello sterminio degli ebrei e tace sui 300.000 omosessuali uccissi dai nazisti? spogliare i media e la stampa italiana? le denunce di Richard Sip negli Stati Uniti hanno raggiunto le prime pagine dei più importanti quotidiani si sono aperti centinaia di processi contro preti denunciati dai bambini a tutt'oggi sono 165 i preti già in carcere condannati per pedofilia il cardinale Bernard dell'ala progressista della gerarchia americana ha fatto aprire una linea telefonica gratuita aperta 24 ore su 24 per poter denunciare i preti e autori di molestie sessuali ma tutto ciò, tutto quello riportato dall'ex preti sono notizie non interessanti ovvero non notizie per la stampa italiana la chiesa non si tocca non bisogna offendere i sentimenti dei lettori cattolici se no c'è il rischio di perdere i lettori si rischia di meno a scrivere contro le piccole nuove religioni certo spesso simili alle grandi chiese che si spartiscono il mondo ma sicuramente meno pericolose se non altro per incapacità di scarsa diffusione anche l'articolo di Aleo era stato rifiutato da un grande periodico progressista anche lui molto sensibile al potere vaticano e ringraziamo Aleo di avercelo proposto beh vi ho fatto un'altra lettura spero vi sia piaciuta un saluto a tutti quelli che mi seguono in diretta e alla maggior parte delle persone invece che scenderanno il post cast per ascoltarlo nel cellulare un abbraccio, un saluto dal vostro San Ten Chan ciao